Il narcisista non lascia mai le sue ex. Ti ricordo però che sui miei canali YouTube, Massimo Terramasco, Crescita Personale, Felicità Benessere, Molto Stima, ti puoi anche abbonare. Abbonandoti potrai ottenere qualcosa veramente importante per la tua crescita personale. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati, avvicinare al tasto iscritto e selezioni l'abbonamento che preferisci. Se non vedi tastina abbonati, l'app del cellulare va col computer. E veniamo al tema. Il narcisista non lascia mai le sue ex. Allora, uno delle modalità per cui tu capisci, diciamo, che hai che fare con un narcisista è che il narcisista è una persona concentrata su se stessa, tende a sfruttare gli altri per ottenere quello che desidera, fondamentalmente per ottenere un approvvigionamento narcisistico, cioè attenzione, ammirazione, devozione, tutte cose che puntualmente non ricambia, però, diciamo, delle quali si nutre. E quindi un modo per nutrirsi, diciamo, per avere sempre un, come dire, una plettora di donne, ma viceversa, mutatis mutandi, se io parlo di narcisisti uomini verso le donne, ma potrebbe essere anche al contrario, è quella di collezionare, diciamo, delle donne senza lasciarle mai, cioè senza lasciarle mai definitivamente. Quindi ogni tanto fa il giro delle sette chiese e contatta le ex che però non ha mai lasciato definitivamente, no? Sono ex virtuali, tra virgolette, sono potenziali partner con le quali, diciamo, ovviamente poi qualcuna la lascerà quando proprio capisce che non c'è trippa per gatti, infatti questo è quello che ti suggerisco di fare, diciamo, quando ha a che fare con un narcisista, faregli capire che non c'è trippa per gatti, ma al gassona! Perché altrimenti ti terrà sempre, in un certo modo. Ogni tanto c'è il tipico cucù del narcisista per cui si farà vivo, si farà sentire. Prendendo anche poco da ognuna, perché magari non è che prenderà tanto, però, diciamo, prenderà quanto basta per ottenere da tutte, diciamo, qualcosina e fondamentalmente impedirà, tra virgolette, di poter svolgere serenamente la tua vita, perché sarai, diciamo, indischiata, no? Sempre mentalmente in una relazione. E questo, diciamo, lo fa per comodità e lo fa, diciamo, per avere, come dire, il suo approvvigionamento di controllo. Nel caso in cui, diciamo, il narcisista rimanga a lungo tempo con una donna, in questo caso, quindi l'ex praticamente non ci sono, però, in questo caso, si creerà tutta una serie di amanti. Invece, i narcisisti che cambiano, poi, spesso donne, non le lasciano mai definitivamente e ogni donna nuova che entra avrà a che fare con tutta l'ex del narcisista. Quindi, e questo, se una persona che, ad esempio, si coinvolge sulla preselezione, se una donna che si coinvolge sulla preselezione, resterà avvischiata, invischiata in situazioni in cui impazzirà, tra virgolette, di celosia, arriverà al punto tale da non connettere più. Quindi questo è un po' il modo di fare. Quindi cerca di capire, ad esempio, una persona che continua a mantenere sempre contatti con le ex, che sono anche più di una. Al 99% è un narcisista. E il narcisista, diciamo, può permettersi di, diciamo, mantenere a poti con l'ex, perché come agisce il narcisista, e lo farà anche con te, tenderà poi a lasciare quando capisce che dall'altra parte c'è coinvolgimento. Ma non è che lascerà nel senso di chiudere la relazione, semplicemente si allontanerà, farà ghosting, sparirà. E quindi, diciamo, lo farà nel momento in cui il suo potenziale è molto alto, per cui le donne restano coinvolte. E ogni tanto mostrerà, diciamo, la sua magnanimità nel volerle in qualche modo cercare, nel volerle in qualche modo entrare in contatto con queste persone. Ecco, questa è la modalità con cui agisce il narcisista, per cui, se riscontri comportamenti di questo genere, ti conviene, diciamo, chiudere subito la relazione. Bene, se questo video ti è piaciuto condividilo con i tuoi amici, ti ricordo che sul canale di iscriviti a tutti i miei canali YouTube, crescita personale con Massimo Tramasco, felicità, benessere, amore, autostima, attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. E ti puoi anche abbonare a ogni canale, andando sul tastino abbonati, vicino al tastino iscriviti, selezionando l'abbonamento che preferisci.